Però voi capite bene che un paese importante come gli Stati Uniti e investitori di una certa spessore se trovano affidabile un territorio e negli anni affidabile quel territorio è un territorio di riferimento. Se uno pensa di fare lo spot, andare negli Stati Uniti, tornare tutto apposta, rivederci e grazie, non mi faccio più vedere, vuol dire non aver capito le importanti relazioni che bisogna stringere per far sì che il Frivenza e Giulia, ma non solo il Frivenza e Giulia, in generale un territorio possa essere credibile e affidabile. C'entra Portovecchio in qualche maniera? Anche. Sì? Sì. Parlo prima io o prima lei? Ci dica. No, scherzo ovviamente. No, ma perché io sono abituato a parlare perché dopo si realizzano le cose, però noi abbiamo già fatto delle mosse come Regione, ma non ve ne siete accorti. No, beh, quella dei magazzini. No, vabbè. Al Presidente della Regione Fedriga non siamo riusciti a strappare i dettagli, ma dopo una giornata di approfondimento sul tema, tra gole più o meno profonde, appare evidente che un forte interessamento di imprenditori americani sul Portovecchio è concreto, anche se ancora non è dato sapere su che magazzini e in quale settore. Maggiori dettagli invece emergono sull'investimento della Regione. Nell'accordo di programma per l'acquisizione dei magazzini è stato inserito anche l'Hangar 21, di cui in precedenza non si era mai parlato. Dislocato alle spalle della Saipem, l'innovativa ditta che si occupa di droni sottomarini, che a quanto filtra da Palazzo Cheba ha in programma di cambiare location, e davanti all'ultima attività squisitamente portuale presente nell'antico scalo asburgico, l'Adria Terminal. Un'area dislocata a 300 metri di distanza dagli altri magazzini dove verrà realizzato il grosso degli uffici pubblici. Si tratta di un edificio di tre piani, alto 9 metri, con superficie totale coperta di 3.100 metri quadrati. Nei due grandi ex magazzini portuali, il numero 10 e il 7, e nella palazzina numero 118, verranno trasferiti, come noto, una serie di uffici vocati alle relazioni con il pubblico della Regione Friuli-Venezia-Giulia, che alienerà nel contempo gli immobili più vetusti siti nel centro di Trieste, tra cui la Direzione Sanità in Riva Grumula. Un parcheggio per i dipendenti e gli utenti dei servizi verrà realizzato sul sedime del magazzino 8 e servirà anche l'altro importante servizio che verrà attivato nella palazzina 117. L'immobile, e questa è un'altra novità, verrà acquisito dal Comune di Trieste, che lo trasformerà nel nuovo centro per l'impiego. Una volta effettuato l'intervento, seguendo quanto previsto dalle normative, lo trasferirà nuovamente in capo all'amministrazione regionale. A spiegare i dettagli tecnici di questa operazione, l'assessore comunale dei lavori pubblici Elisa Lodi. All'interno di questo accordo di programma, oltre al trasferimento dei quattro magazzini alla Regione, ci sarà anche prevista la riqualificazione a carico del Comune del centro dell'impiego all'interno del Porto Vecchio, che verrà quindi trasferito lì, e la concessione di un contributo da parte della Regione di 10 milioni circa per le opere di urbanizzazione.